Mi è onora e ho iniziato a frequentare i corsi presso la scuola di formazione di massaggio professionale di Abasi poco più di un anno fa ed ora mi trovo già da un paio di mesi all'altruzzo estremo in monte a lavorare come massaggiatrice nel centro benessere presente in struttura.